Siamo qui con Alberto De Gradi, Senior Manager di Infrastructure Leader di Sisco Italia, benvenuto. Alberto, le aziende stanno vivendo un'era di forti sfide e profonde trasformazioni, spesso di rottura rispetto al passato. In questo scenario come deve evolvere il ruolo del CIO? Oggi i CIO devono fare un cambio culturale, devono capire che non possono essere solo esclusivamente un fornitore, quindi un broker di soluzioni IT, ma in realtà che devono creare una piattaforma per la digitalizzazione, per il business della propria azienda. Quindi nella rete risiedono le capability per la digitalizzazione, il data center è il cuore pulsante dove risiedono le applicazioni e tutto questo deve essere fatto in una logica di fast IT, quindi rapido nel fare il deployment di nuove applicazioni per andare incontro alle esigenze della linea di business. E l'altro punto è la consapevolezza, anche in questo caso, di un cambiamento che riguarda la security. Quindi secondo me il cambiamento forte deve essere quello di guardare in modo diverso alla sicurezza, in una logica diversa perché è diverso con la digitalizzazione il perimetro che dobbiamo difendere, anzi non esiste più in realtà un perimetro, oggi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo come sensori e la rete come attuatore per difenderci. Quindi la sicurezza diventa uno degli elementi importanti sui quali secondo me oggi i CIO devono porre la loro attenzione e anche io credo portare a bordo in azienda, quindi dei nuovi skill orientati alla sicurezza in un mondo che va verso la digitalizzazione. Quindi trasformare l'IT, andare a intervenire sull'IT per trasformare quelli che sono anche i processi di business e questa è la vera digital transformation. Quali sono le principali azioni che un'azienda deve prendere in considerazione per una strategia di successo? Esatto, io penso proprio che quello che hai toccato tu è il punto fondamentale, cioè trovare il punto di inserzione della tecnologia nell'ambito dei processi di business e questo io credo che vada fatto portando nel board, se non lo è già, il CIO, quindi avendo l'IT come parte strategica dell'azienda e della strategia digitale ovviamente dell'azienda. Il secondo punto, ma credo che sia veramente importante, è quello di avere la capacità di rimmaginare rimmaginare il proprio business. Questa è una delle chiavi di successo e se vogliamo di insuccesso secondo me delle aziende che andranno incontro alla digitalizzazione. Si devono in qualche modo staccare dal passato, avere la forza, vincere questa inerzia rispetto al passato e rivedere completamente i propri processi di business nell'ottica della digitalizzazione. e l'ultimo punto io direi che proprio per andare incontro a quello che ho detto serve e servirà io penso la capacità di collaborare, di cooperare con delle aziende, probabilmente delle start up, delle aziende esterne che hanno delle competenze che in azienda non ci sono e io credo che questo sia un altro piccolo cambiamento culturale che devono fare le aziende per andare incontro a questo processo di cambiamento. Quindi la capacità di fare sviluppo congiunto con delle start up, con competenze che all'interno della propria azienda non troveranno e che sono chiaramente orientate alla digitalizzazione.